Si continua a morire sulle strade italiane. I decessi avvengono prevalentemente nei fine settimana. Nel primo weekend di luglio sono almeno 9 le persone morte in località diverse. A Roma ieri una donna di 67 anni è morta sul colpo sulla via Laurentina travolta da una Tesla guidata da un giovane che viaggiava in contromano ad alta velocità. L'incidente richiama lo schianto mortale avvenuto poche settimane fa sempre a Roma a Casalpalocco in cui è morto un bimbo di 5 anni. A Gemonio nel Varesotto una 41enne morta dopo essere stata investita da un pirata della strada e a Ravenna sempre nel weekend lungo la strada che porta dalla città marina un furgoncino ha investito tre ciclisti uccidendone uno. Solo nei quattro fine settimana di giugno sono state un centinaio le vittime sulle strade circa 600 dall'inizio dell'anno con il triste record nell'ultimo fine settimana di maggio 43 morti di cui 24 motociclisti. L'aumento degli incidenti in questo inizio estate non è affatto incoraggiante commenta il presidente dell'ASAPS e il portale della sicurezza stradale Giordano Biserni per il quale la velocità inadeguata la fa da padrona in città e sulle statali. Chiede maggiori controlli sulle strade anche l'associazione familiare e vittime della strada. Bisogna agire sui due binari controlli ed educazione. Invitiamo tutte le prefetture a sollecitare le forze dell'ordine a destinare sulle strade un maggior numero di pattuglie. Sappiamo bene quali sono i primi due nemici da combattere, distrazione e velocità, come dimostrano ad esempio i recenti casi di Casal Palocco e Laurentina che inducono anche ad un'ulteriore considerazione. L'età media dei conducenti che causano un incidente stradale grave si è di molto ridotta, pertanto bisogna agire anche dal punto di vista dell'educazione stradale.